Nei combini si possono fare un mucchio di cose e non solo comprare cibari di ogni genere. Ecco quindi una lista di cosa si può fare in questi luoghi. Certo, non tutti hanno queste disponibilità, ma nella stragrande maggioranza dei casi sì. Pagare le tasse o l'assicurazione. Pagare luce, gas, acqua o bolletta del telefono. Inviare e ricevere i pacchi, cosa molto utile soprattutto per chi lavora e non vuole dare costantemente buca al povero corriere di Amazon. Inviare fax. Stampare documenti o foto digitali anche direttamente dal vostro cellulare via Wi-Fi, USB o SD. Usare lo scanner e inviare foto o file al vostro telefono e trasferirvi su chiavetta. Prendere l'acqua calda, magari per il vostro ramen o zuppa istantanea, oppure potete usare il microonde gratuitamente per riscaldare quello che vi siete comprati. Ci sono delle apposite zone per mangiare. Posate e bacchette vi saranno fornite. Bere caffè, con anche le prese per ricaricare la batteria del vostro cellulare, e leggere il giornale. C'è anche la macchinetta del caffè, ma non vi aspettate il nostro espresso, bensì caffè americano Ice Coffee, che non è il massimo per chi ama il caffè nostrano. Potete andare in bagno. Si possono comprare dei biglietti adesivi da attaccare sui rifiuti ingombranti, come il vecchio armadio dello zio Takeshi con i suoi samurai sbronzi. La ditta di ritiro passerà a prenderlo dopo aver concordato un giorno. Potete prenotare biglietti per teatro, cinema, concerti, musei, eccetera. Per comprare in internet, in caso non abbiate una carta di credito, potete infatti pagare col codice che vi darà il sito, o acquistare al combi le carte prepagate per iTunes, Amazon, eccetera. Potete ricaricare la vostra carta dei treni e anche pagare con la stessa. C'è il bancomat. C'è anche il free wifi. Trovate persino un servizio per lavare i vestiti. Si portano i vestiti sporchi che saranno spediti in lavanderia, e andrete a recuperarli quando saranno lindie profumati, pronti per sbrodolarvi con la prossima ciotola di ramen. Potete anche farvi stampare documenti ufficiali inserendo la vostra ID, senza dover andare in comune a ritirarli, come i documenti di nascita, eccetera. Si possono comprare vestiti, camicie, calzini, capelli, cravate, mutande, guanti, e così via. Anche se è una cosa piuttosto nuova, esistono dei combini con anche dei camerini in cui potete provare i vestiti. Vendono anche medicinali e a volte ci sono delle vere farmacie al loro interno. Aiutano ad evitare la walk of shame, ovvero la camminata della vergogna che inesurabilmente vi tocca fare dopo una notte brava trascorsa a casa della propria conquista. Al combini si possono acquistare infatti prodotti di make-up, soluzioni per lenti, spazzolini di odoranti per rimettervi in sesto. Ricordate che ai combini i sacchetti della spesa sono gratis e i commessi metteranno i vostri acquisti direttamente nei sacchetti separando le cose calde da quelle fredde. Se volete potete richiedere posate, cannucce, forchette o bacchette. Ciò che non potete fare è buttare la spazzatura che vi portate da casa nei bidoni del combini o mangiare cose che avete comprato altrove negli spazi appositi. Grazie a tutti!